Per quanto riguarda i miei compagni l'allenatore non è mai stato messo in discussione, anzi penso che, e lo dico con tutto il rispetto per i Cosenza degli anni passati, l'anno scorso o anni anche un po' prima magari il Cosenza andava a giocare a Palermo, andava a giocare a Cremona e si sperava nel miracolo. Oggi non è più così, è la verità, non penso che potete dire il contrario. Ce la stiamo giocando con tutti, giocando bene a calcio, stiamo cercando di portare il Cosenza in una nuova dimensione a livello di campo, di giocare a calcio e di proporre sempre gioco.